Sabo, Venti, Kubicek, l'ordine con Kudicek, anche oggi, Venti, Venti, subito bene, Sabo, forse, Venti, Venti davanti, Sabo, Venti! Sicuramente in una buona posizione, capite, le scelte uniche giovani, pertanto dovranno stare caratteristiche le traiettorie per non allargare, per non arrivare a loro più più gara, mantenendo dei piloti promozionali e qui si interaggavano, bellissimo, oltre a tempo, con un'altra parte, con grande espostività, e questo importante, Venti, Kubicek, è il nuovo! Venti, è 만득 libero, comunque noto, è il primo, è il primo che viste! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.